Grazie a tutti guarda con le palle guarda, è la sua stocca, non lo sapete è la fine dai che ti stai sciogliendo dai col piede, questo non c'è come cazzo ma quanti anni hai passato? 30 cento, cento ma invece questa è la buca di pezzina che mi fa girare la testa e quando sto con lei è proprio la mia testa registratore con microfono incorporato guarda non parla più nessuno è il caffè